bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie la storia di oggi è una storia italiana un caso molto misterioso e so che spesso all'inizio dei miei video vi dico questa storia è talmente assurda da sembrare un film ecco in questo caso è proprio così nel senso che il caso di oggi ha ispirato un film di cui ora vi parlerò brevemente e a questo punto un grazie al partner che sponsorizza il video di oggi 01 distribution finalmente l'alba è un film scritto e diretto da saverio costanzo con un cast incredibile con attori tra cui lily james rebecca antonaci willem da foe e la star di stranger things joe keery il regista saverio costanzo ha dichiarato che le sue intenzioni in principio erano proprio quelle di scrivere un film sull'omicidio della giovane vilma montesi che ha rappresentato per l'italia il primo caso di assassino mediatico che ha portato ovviamente la stampa a speculare sulla vicenda e la gente ad ossessionarsi molto presto però come spesso purtroppo succede si è iniziato a dimenticare la vittima e si è passato a parlare praticamente solo dei suoi possibili carnefici saverio costanzo racconta che quindi mentre scriveva la sua idea è cambiata e piuttosto che far morire l'innocente ne ha voluto cercare il riscatto nel suo film infatti la protagonista si chiama mimosa ed è una ragazza semplice una giovane donna nella roma degli anni 50 che ama e sogna il cinema e che un giorno accompagnando la sorella ad un provino per fare la comparsa si ritrova a suo malgrado catapultata in questo mondo mimosa accetta l'invito mondano di un gruppo di attori americani e con loro trascorre una notte infinita da cui uscirà diversa finalmente l'alba esce solo al cinema in tutta italia mercoledì 14 febbraio quindi tra due giorni mi raccomando non perdetevelo e ora torniamo alla storia di oggi che è proprio quella che ha ispirato il film oggi sarò io a raccontarvi l'assurda e strana morte della giovane vilma montesi è un nome che ha avuto larga e triste notorietà in questi ultimi mesi e così pure torbaianica la spiaggia dove fu rinvenuto il cadavere di vilma montesi delitto o disgrazia realtà o fantasia ci troviamo in un'italia nei primi anni 50 e prima di parlarvi di vilma devo necessariamente parlarvi del contesto storico in cui ci troviamo che è molto particolare l'italia in questo periodo infatti è in piena fase di rinascita sono passati solo otto anni dal giorno in cui il paese è stato liberato dall'occupazione nazifascista quindi in questi anni si ha la voglia di lasciarsi dietro le spalle tutti gli anni bui la guerra la distruzione il dolore e si ha voglia di guardare avanti di ritrovare la gioia di ricostruire di dedicarsi alle cose belle e al piacere in questi anni infatti l'italia è in pieno fermento è l'anno dello sport del teatro del cinema ed è forse proprio perché il paese si trovava in un momento così sereno che tutti vengono colti alla sprovvista alla luce della storia che sto per raccontarvi vilma montesi ha 21 anni al momento dello svolgimento di questa storia ed è una ragazza che tutti descrivono come una brava ragazza vive insieme ai suoi genitori maria petti la mamma che fa la casalinga il padre rodolfo che fa il falegname e ha una sua bottega sua sorella vanda suo fratello sergio e i suoi nonni paterni vivono tutti insieme in una casa nel quartiere trieste di roma in una casa molto modesta in un trilocale di proprietà dell'incis che ai tempi era l'istituto nazionale per le case degli impiegati statali la famiglia montesi in generale è una famiglia modesta e vilma è una ragazza molto tranquilla una ragazza ordinaria la scuola non è mai stata il suo forte ha frequentato la scuola media all'istituto maria ausiliatrice ma non ha passato la terza media viene poi iscritta alla scuola michelangelo buonarroti una scuola d'avviamento commerciale ma anche qui non viene promossa si trasferisce quindi all'istituto privato torricelli anche qui una scuola d'avviamento commerciale ma la frequenta con scarso profitto e con scarso interesse a vilma non piace studiare e alla fine decide di abbandonare gli studi i suoi compagni delle varie scuole comunque la descrivono praticamente tutti nello stesso modo tutti dicono che sia una ragazza molto timida molto introversa con difficoltà a socializzare e in generale con un carattere molto chiuso vilma è riservata e non ha interesse a frequentare i suoi compagni fuori dalla scuola o anche solo nel partecipare alle attività che le facevano svolgere che facevano svolgere tutti tutti insieme in classe tutti quelli che la conoscono e che la vedono in giro per il quartiere infatti raccontano di vederla sempre e solo insieme a sua mamma maria e a sua sorella vanda lei e sua sorella erano talmente tanto sempre insieme da essersi guadagnate il soprannome di sorelle siamesi vilma non è mai stata vista con nessun altro se non con sua mamma e con sua sorella e pochissime volte da sola ma mai con qualcun altro mai con un'amica o tantomeno con un uomo vilma però è fidanzata è fidanzata con un ragazzo di nome angelo giuliani che però vive a potenza perché fa la gente di polizia ed è appunto stato trasferito a potenza quindi la loro è una relazione a distanza vilma e angelo si sono conosciuti nel settembre del 52 in una sala da ballo di roma in cui vilma era andata insieme ovviamente a sua mamma e a sua sorella vanda e lì angelo l'aveva notata e le aveva chiesto di ballare insieme a lui vilma a questo aveva risposto di non saper ballare e gli aveva detto che avrebbe sfigurato vicino a lui e da lì tra i due c'è stato il colpo di fulmine a detta di angelo tanto che lui la sera stessa chiede il numero di telefono per poter rivedere vilma e dopo pochi giorni le chiede già di sposarlo vilma dopo aver chiesto il permesso alla madre accetta quindi al momento di questa storia vilma si sta preparando per queste prossime nozze che si sarebbero svolte a dicembre del 1953 quindi a dicembre di quell'anno come forse avrete capito nella famiglia montesi la mamma maria è molto presente la famiglia montesi è infatti una famiglia di tipo matriarcale e maria a prendere tutte le decisioni e lei quella che tiene le redini della famiglia quella dal carattere forte quella che comanda tra virgolette e lei infatti che ci tiene che le due figlie stiano sempre sotto il suo controllo vuole che stiano sempre in casa e che non abbiano grilli per la testa vilma da tutto quello che tutti raccontano non ha mai avuto grilli per la testa sogna una vita tranquilla sogna di sposarsi di avere dei figli ma allo stesso tempo sogna anche la fama in quel periodo infatti roma sta diventando la capitale del cinema tanto che viene definita la hollywood sul tevere l'america inizia a girare molti dei suoi film proprio a cine città e non è strano per una ragazza dell'età di vilma in quel periodo e in quel contesto di sognare di avere i propri 15 minuti di fama vilma infatti sogna il cinema fa anche qualche comparsata a cine città ma nulla più di questo arriviamo al 9 aprile del 1953 è un giorno di primavera ma a roma fa ancora freddo quella mattina vanda la sorella di vilma passa dalla bottega di rodolfo per recuperare dei sandali di vilma perché dovete sapere che in quel periodo vilma ha un problema al tallone ricordatevelo perché non sembra ma è estremamente importante vilma a causa di un paio di scarpe nuove ha un'irritazione al tallone che non le passa il dottore le ha detto di metterci sulla tintura di iodio quella roba rossa ma vilma continua ad avere quel fastidio e quindi aveva chiesto a vanda di prenderle questi sandali per stare un po più comoda quando vanda torna a casa vilma prepara il pranzo e verso le 14 la famiglia montesi si siede a tavola per mangiare tutti insieme nel pomeriggio poi maria e vanda decidono di andare al cinema a vedere il film la carrozza d'oro di jean renoir con anna magnani ma vilma decide di non andare con loro e questo perché dice che a lei anna magnani non piace dico non siete geloso dice loro che preferisce fare una passeggiata e poi casomai raggiungerle dopo così maria e vanda escono verso le 16 e 30 e lasciano vilma a casa che si stava truccando la sera quando tornano a casa tutti insieme anche sergio e rodolfo sono convinti che vilma sia già nella sua camera e senza neanche controllare maria inizia a preparare la cena poi intorno alle otto e mezza si siedono tutti a tavola chiamano vilma dicendole che la cena è pronta ma non ricevono nessuna risposta la chiamano di nuovo ma nulla vilma non esce dalla sua stanza e quando vanno a controllare si rendono conto che vilma non è nella sua stanza vilma non è in casa non è mai rientrata a quel punto la famiglia si allarma all'istante perché non era mai successo che la ragazza rimanesse fuori fino a quell'ora oltretutto da sola deve esserle successo qualcosa escono quindi immediatamente a cercarla e uno dei primi posti in cui vanno è il policlinico perché pensano ad un incidente ma di vilma non c'è nessuna traccia di conseguenza verso le 22 e 30 vanno al commissariato per denunciare la sua scomparsa e dopo continuano a cercarla per le strade di roma senza sosta la cercano per tutta la notte però vilma sembra scomparsa nel nulla la mattina dopo il 10 aprile rodolfo si reca in questura e qui ha un colloquio con un commissario il cui atteggiamento è a dir poco discutibile perché davanti ad un padre disperato lui sminuisce la sua preoccupazione dicendogli che sicuramente vilma sarà scappata di casa per fare qualche bravata con qualche ragazzo e addirittura insinua che la ragazza sia in realtà una prostituta e consulta davanti a lui il registro delle prostitute per vedere se ci fosse anche lei rodolfo per poco non gli tira una scarpa dietro stile mamma di elisa claps e se ne va e si reca in un'altra questura la famiglia montesi non sa più cosa fare e addirittura si rivolge ad una cartomante per chiederle dove fosse la loro vilma questa cartomante risponde che avranno presto notizie di lei e che si trovava vicino roma allora i montesi pensano che possa trovarsi a rocca di papa un posto vicino roma in cui loro erano andati una volta in vacanza insieme a vilma e ricordano che al tempo c'era un ragazzo lì che le dava delle attenzioni quindi si dicono magari è davvero scappata di casa ma anche a rocca di papa di vilma non c'è nemmeno l'ombra quel giorno arriva da potenza anche il fidanzato di vilma angelo a cui i genitori della ragazza avevano mandato un telegramma scrivendo appunto che vilma era scomparsa e dopo scrivendogli che forse addirittura la ragazza si era tolta la vita su questo punto ho trovato un po di confusione tra le notizie perché alcune fonti riportano che sia stata la famiglia stessa a ipotizzare il suicidio cioè che il padre di vilma nello specifico abbia detto che forse sua figlia si era tolta la vita e questo perché secondo lui non era felice non era felice dell'imminente matrimonio con angelo e non voleva trasferirsi a potenza ma in un libro che ho letto su questa storia scritto da una giornalista che riporta tutte le interviste stralci delle carte processuali insomma mi è sembrato molto affidabile non c'è scritto questo c'è scritto che questa cosa del suicidio viene fuori perché praticamente quando i montesi mandano il telegramma ad angelo chiedendogli di andare da loro perché vilma è scomparsa lui chiede ovviamente il permesso in caserma per andare ma questo permesso gli viene negato e gli viene detto che gli sarebbe stato concesso solo nel caso in cui la scomparsa della sua fidanzata fosse legata a qualcosa di grave quindi solo nel caso in cui si pensasse che la ragazza fosse o stata uccisa o che si fosse tolta la vita e allora per questo maria manda un altro telegramma ad angelo scrivendo che si pensava che vilma si fosse tolta la vita e a quel punto infatti il permesso ad angelo è stato concesso e lui è potuto andare a roma quindi in realtà i montesi non pensavano davvero che vilma si fosse tolta la vita soprattutto la madre maria arriviamo così all'11 aprile quella mattina intorno alle 7 circa un muratore di nome fortunato bettini sta pedalando sulla sua bicicletta recandosi a lavoro in un cantiere di fronte la spiaggia di torvaianica che sarebbe in una frazione di pomezia a circa 30 40 chilometri da roma ma ad un certo punto sulla spiaggia proprio sul bagnasciuga vede qualcosa di strano e non capisce cosa sia ma con suo grande orrore quando si avvicina si rende conto che si tratta di una donna una donna senza vita a quel punto l'uomo terrorizzato corre alla sua bicicletta e si dirige alla caserma più vicina che è quella della guardia di finanza la guardia di finanza contatta i carabinieri che si recano sul posto intorno alle 8 e intorno alle 9 30 arrivano sulla spiaggia di torvaianica anche il maresciallo carducci insieme al medico legale il dottor agostino di giorgio il corpo si trova in posizione prona quindi a pancia in giù parallela alla riva con la faccia in giù proprio nella sabbia un braccio all'altezza della testa e uno lungo il fianco indossa un reggiseno rosa una maglia bianca un pullover giallo e una giacca a quadretti verdi e sotto ha una sottoveste celeste e anche delle mutande bianche ma non indossa né una gonna né le calze né le scarpe quindi possiamo dire che a parte le mutande la ragazza è nuda dalla vita in giù però non presenta nessun segno di violenza il mare è un po mosso quel giorno quindi le autorità sono costrette a spostare il corpo della giovane per evitare che le onde lo trascinino in acqua e dopo un'analisi il dottor di giorgio stabilisce che la causa della morte sia negamento e che la morte potrebbe risalire a 18 24 ore prima non di più perché il corpo non è ancora completamente rigido quindi non è ancora andato completamente in rigor mortis quindi la giovane potrebbe essere morta la mattina del 10 aprile quindi la mattina del giorno prima il giorno dopo quindi il 12 aprile rodolfo leggendo il giornale vede la notizia di questo ritrovamento del ritrovamento di questo corpo sulla spiaggia di torvaianica e pensa subito che possa essere sua figlia quindi insieme ad angelo si recano all'obitorio per il riconoscimento e quando sollevano il lenzuolo dal viso della ragazza rodolfo non ce la fa e perde i sensi ma non ci sono dubbi quel corpo appartiene a vilma quella ragazza senza vita trovata sulla spiaggia e vilma montesi e vi dirò di più quando vedono il corpo i due notano che vilma presentava una piccola ecchimosi sul sopracciglio un piccolo livido con del sangue tant'è che altro che suicidio i due pensano subito che la ragazza sia stata aggredita e sia stata uccisa da qualcuno a questo punto partono le indagini ci sono già diversi elementi strani come per esempio l'assenza dei vestiti di vilma come vi ho detto vilma al momento del ritrovamento non indossava la gonna le calze e le scarpe indumenti che non sono mai stati ritrovati insieme anche alla sua borsa neanche quella è mai stata trovata la cosa strana però è che non indossava neanche il reggi calze a quel tempo tutte le donne indossavano il reggi calze che sarebbe una sorta di fascia intorno alla vita con dei gancetti che scendono e a cui si appendono le calze i collant mettiamo caso che vilma si sia tolta le calze e le scarpe per passeggiare a piedi nudi sulla spiaggia perché avrebbe dovuto togliersi anche il reggi calze che sta da solo su in vita e perché avrebbe dovuto togliersi anche la gonna ma soprattutto cosa ci faceva vilma a torvaianica gli inquirenti tentano di ricostruire i movimenti di vilma del giorno della sua scomparsa il 9 aprile se vi ricordate quel giorno sua mamma e sua sorella vanda erano andate al cinema e lei non era voluta andare abbiamo tre testimoni che dicono di averla vista quel giorno la prima è la portinaia del palazzo in cui vive che dice di averla vista uscire quel giorno intorno alle 17 10 17 e 15 ed è sicura al 100 per cento di quest'orario io so sicura all'orario perché ma devo andare a restituire la chiave stagnare e allora gli domandò io sabato in che ora sono e sono le 5 10 e era proprio il principale se erano le 5 10 io ho detto sempre dalle 5 20 alle 5 e mezzo poi abbiamo una giornalaia che dice di averla vista tra le 18 e 15 18 e 45 a ostia perché dice che vilma era andata nella sua edicola a quell'ora più o meno aveva acquistato da lei una cartolina aveva tirato fuori dalla sua borsa una matita con cui aveva scritto qualcosa sulla cartolina e poi aveva chiesto alla giornalaia di spedirla al posto suo e le aveva anche detto che la cartolina era per il suo fidanzato che stava a potenza aveva poi pagato con dei soldi tirati fuori dal portafoglio nella sua borsa e poi era andata via infine abbiamo un'altra donna una bambinaia che dice di averla vista anche lei verso le 18 18 e 15 sulla spiaggia sempre di ostia passeggiare da sola ma se queste persone l'hanno vista ad ostia perché il suo corpo è stato ritrovato a torvaianica che dista da ostia circa quattro ore e mezzo a piedi quello stesso giorno tra l'altro c'è un commissario della squadra mobile a casa montesi che li sta interrogando e per la prima volta la sorella di vilma vanda tira fuori un nuovo elemento le viene in mente che il giorno della scomparsa vilma le aveva chiesto di andare insieme a lei ad ostia e voleva andare ad ostia per fare una passeggiata sulla spiaggia e questo perché voleva bagnare i piedi nell'acqua di mare vi ricordate che prima vi ho detto che vilma aveva un'irritazione al tallone causata dalle scarpe che le facevano male ecco vanda sostiene che vilma voleva fare un pediluvio con l'acqua di mare perché sperava che così l'irritazione le sarebbe passata vilma quindi era andata ad ostia per fare un pediluvio e a conferma di questo oltre alle due donne la giornalaia e la bambinaia che dicono di averla vista ad ostia ci sarebbe un altro testimone un'altra donna che quel giorno sempre il 13 aprile telefona a casa dei montesi per chiedergli di poter andare da loro per guardare alcune foto di vilma perché è abbastanza sicura di averla incontrata il giorno della scomparsa questa signora si chiama rosa passarelli e quando arriva a casa montesi e guarda alcune foto di vilma è sicura di averla incontrata quel giorno dice di averla incontrata il 9 aprile sul treno roma ostia delle 17 30 è sicura che sia lei perché le si è seduta proprio di fronte e ha viaggiato seduta lì per tutto il tragitto roma ostia a questo punto la mamma di vilma maria è quasi sollevata in un certo senso perché tutti avevano visto vilma sempre e solo da sola non in compagnia di qualche uomo come aveva insinuato qualcuno all'inizio in quel caso sarebbe stato un disonore per la famiglia ricordate sempre che stiamo parlando di altri tempi e il non macchiare il nome della famiglia sembra una priorità invalicabile tanto che la stessa signora passarelli quella del treno che aveva visto vilma sul treno dice a maria montesi che è una fortuna che vilma non si sia tolta la vita perché anche quello comunque non avrebbe giovato al nome della famiglia e la famiglia doveva sempre considerare che aveva ancora una figlia femmina da far sposare no vabbè lo ripeto sono altri tempi per capire meglio come funzionavano le cose al tempo vi consiglio di guardare il video che ho fatto su franca viola se proprio volete sapere e se proprio volete farvi del male il giorno dopo siamo al 14 aprile viene pubblicata sul giornale in prima pagina questa foto della giovane vilma che diventerà famosissima in tutta l'italia e che diventerà il simbolo di questa storia che va molto oltre la cronaca nera questo giorno è anche quello in cui viene eseguita l'autopsia sul corpo della giovane da cui emergono le seguenti cose vengono rilevate alcune piccole echimosi anche alcune escoriazioni sia sul viso che su diverse parti del corpo che però si attribuiscono al fatto di essere stata trascinata comunque un po sbattuta sul bagnosciuga dalle onde nei polmoni viene ritrovata della sabbia che secondo gli esperti appartenrebbe alla spiaggia di ostia e emerge anche che vilma era vergine quindi il suo imene è intatto il che conferma l'assenza di violenza sessuale vengono fatti anche gli esami tossicologici per i veleni volatili come il cianuro e l'etere per i veleni metallici come il bario e l'arsenico e per i veleni organici tra cui il cloroformio stricnina morfina e cocaina tutti questi test risultano negativi il 16 aprile in una conferenza stampa saverio pulito che sarebbe il questore di roma di allora comunica a tutti cosa sia successo a vilma montesi vilma montesi si è recata al lido di ostia per fare un pediluvio a scopo curativo per il suo arrossamento al tallone e dopo essersi tolta gli indumenti che non sono più stati ritrovati si è bagnata i piedi nell'acqua e poi improvvisamente deve aver avuto un malore forse perché l'acqua era troppo fredda è caduta quindi in acqua ed è annegata poi a causa delle forti correnti il corpo era stato trascinato da ostia a torvaianica dove era poi stata ritrovata in poche parole secondo loro vilma montesi sarebbe morta per un pediluvio la gente è a dir poco sconcertata e indignata volevano davvero far credere a tutti che una ragazza giovane e assolutamente in salute sia morta improvvisamente perché si è bagnata i piedi non aveva alcun senso eppure per il momento per le autorità il caso è chiuso il 17 aprile si svolge il funerale di vilma che viene sepolta in quello che sarebbe dovuto essere il suo abito da sposa e alla sua famiglia non è concessa un po di pace neanche in una giornata come quella dato che da quel momento iniziano ad arrivargli una serie di lettere anonime orribili di persone che scrivono le cose più assurde tipo ho fregato il poliziotto l'ho ammazzata per vendetta oppure ho amato vostra figlia la quale deve essere mia o di nessun altro purtroppo la gente strana c'è sempre stata nessuno però vuole accettare questa conclusione troppe cose non tornano in questa storia a partire dagli orari se la portinaia aveva visto vilma uscire di casa alle 17 10 17 un quarto come faceva alle 17 30 ad essere già seduta sul treno per ostia davanti alla signora passarelli e dove sono finiti gli indumenti mancanti e la borsa di vilma e perché se li sarebbe tolti e ancora secondo la famiglia non aveva nessun senso che vilma fosse andata in quell'edicola e che avesse affidato una cartolina per il suo fidanzato ad una perfetta estranea la giornalaia per farla spedire a lei cartolina poi scritta con una matita e pagata con dei soldi presi da un portafoglio che vilma non aveva mai avuto sua mamma dice che vilma non aveva mai avuto una matita nella sua borsa né tantomeno un portafoglio vilma non possedeva un portafoglio inoltre questa fantomatica cartolina non era mai neanche arrivata al fidanzato angelo e infine se vilma fosse annegata ad ostia e il corpo fosse stato trascinato fino a torvaglianica dalle correnti questo vorrebbe dire che il corpo è rimasto in mare per 36 ore ma il corpo di vilma a parte quelle piccolissime scoriazioni era intatto aveva persino ancora lo smalto rosso perfetto sulle unghie quello non era un corpo che aveva passato quasi due giorni in mare il 4 maggio infatti viene pubblicato il primo articolo bomba che dà il via ad una reazione a catena sul quotidiano di napoli che si chiama roma appare un articolo che si intitola perché la polizia tace sulla morte di vilma montesi e poi continua con insistenti voci nella capitale denunciano che nell'episodio sarebbe coinvolto il figlio di un'alta personalità governativa la polizia si ostina ancora a tacere per ragioni politiche particolari e l'opinione pubblica avrebbe tutto il diritto di sapere e solo il giorno dopo il settimanale satirico il merlo giallo si spinge ancora più oltre pubblicando una vignetta che ritrae dei piccioni viaggiatori che portano in questura un reggi calze ovvero uno degli indumenti che mancavano a vilma e sotto c'è scritto dopo tutto le note personalità politiche cui allude roma non sono poi così tante e non possono nemmeno sparire senza lasciare tracce come piccioni viaggiatori boom da qui si scatena l'inferno per una serie di ragioni prima cosa dovete considerare e non dovete sottovalutare che l'italia veniva da un periodo particolare il governo mussolini infatti era caduto non molto tempo prima è durato fino al 43 quindi solo dieci anni prima e dovete sapere che durante il governo mussolini tra le tante cose di cui non si poteva parlare c'era anche la cronaca nera la cronaca nera era bandita da tutti i quotidiani perché l'italia agli occhi del mondo doveva essere perfetta doveva avere un'immagine impeccabile la gente doveva pensare che in italia si trova sempre parcheggio i treni arrivano sempre in orario e la gente non muore mai ora però sapete che i treni non è che arrivavano sempre in orario è solo che quando arrivavano in ritardo era vietato farlo sapere questo comunque è il primo caso in cui non solo i giornali possono parlare liberamente ma in cui addirittura l'opinione pubblica è stata coinvolta la gente poteva finalmente dare libero sfogo a tutta quella curiosità morbosa che diventa morbosa proprio perché quella cosa ti è stata vietata fino a quel momento la gente era abituata alla censura adesso invece si ritrovava immersa nell'informazione quindi c'era una fortissima sete di sapere ma quello che più scatena l'inferno è l'allusione che fa questa vignetta ci sono infatti delle voci in questo periodo voci secondo cui un ragazzo biondino che era in compagnia di vilma montesi il giorno della sua scomparsa si sarebbe presentato in questura e avrebbe riconsegnato i vestiti mancanti della ragazza ma dato che questo biondino è il figlio di una personalità politica molto potente nessuno ha indagato su di lui e il caso sarebbe stato chiuso con la scusa del pediluvio e secondo queste voci il biondino sarebbe un certo piero piccioni che sarebbe un musicista e il figlio di attilio piccioni 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 viaggiatori capito nell'uscire dal quirinale dove ha ricevuto l'incarico di formare il governo piccioni dichiara mi accingo all'impresa con fiducia e buona volontà lo accompagnano i nostri auguri attilio piccioni sarebbe l'allora vicepresidente del consiglio ed è importante sapere che al momento dello svolgimento di tutto questo l'italia era in piena campagna elettorale di lì a un mese si sarebbe dovuto andare a votare e con queste elezioni si sarebbe anche eletto il successore di alcide de gasperi che era l'allora presidente del consiglio e il suo successore sarebbe stato molto probabilmente proprio attilio piccioni quindi capite la portata di questo scandalo in un periodo storico in cui il paese non è abituato agli scandali seguono anche altri articoli del genere come per esempio uno sul settimanale vie nuove in cui il giornalista marco cesarini sforza scrive che vilma dopo un malore sarebbe stata gettata in mare da qualcuno da qualcuno preso dal panico di uno scandalo e l'articolo continua dicendo che se giravano così tante voci sul caso montesi doveva esserci qualcosa di vero piero piccioni quindi avvia un procedimento legale nei confronti di questo giornalista che subito dopo ritratta tutto dicendo che si era inventato tutto ma il dramma intorno a piero piccioni è talmente grande che quando il presidente della repubblica luigi enaudi il 2 agosto del 54 incarica attilio piccioni suo padre di formare il nuovo governo lui rinuncia al mandato e solo un mese dopo addirittura decide di dimettersi di dimettersi completamente ma a questo ci arriviamo più avanti a ottobre 1953 scoppia un'altra bomba il giornalista silvano muto pubblica sulla sua rivista attualità un articolo che incasina tutto ancora più di quanto già non fosse e che come vedrete farà dimenticare di vilma o meglio non si parlerà più di vilma in quanto persona in quanto vittima la sua vita ma soprattutto la sua morte diventerà solo un mezzo si strumentalizzerà la sua morte tantissimo e per le ragioni più disparate l'articolo si intitola il mistero della morte di vilma montesi perché non fu chiarito il mistero della ragazza annegata ostia il cui corpo fu rinvenuto a torvaianica nell'articolo silvano muto fa una ricostruzione minuziosa di tutta la vicenda con luoghi orari tutte cose che si sapevano già ma da un certo punto in poi la sua storia prende una piega inaspettata muto scrive che vilma aveva un amico che lui soprannomina nell'articolo mister x un uomo pronto ad esaudire ogni suo desiderio ma che in cambio pretendeva il controllo fisico e psicologico sulla giovane mister x secondo l'articolo userebbe ragazze come vilma per consegnare dei pacchetti di felicità che probabilmente le ragazze non sanno neanche che cosa contengano quindi muto accusa questo fantomatico mister x di usare ragazze tra cui vilma come mule scrive anche che qualcuno ha visto vilma e mister x entrare diverse volte nella tenuta di capocotta che sarebbe quella che allora era la tenuta di proprietà dei savoia che dopo la monarchia era diventata di proprietà degli eredi di vittorio emanuele terzo e secondo questo articolo la tenuta di capocotta sarebbe un luogo di perdizione dove si tengono festini e orge insomma festini a base di orge sesso droga rock and roll a cui partecipano persone potenti gente famosa importanti politici gli antenati del bunga bunga insomma secondo muto quindi il 9 aprile vilma ha avuto appuntamento con mister x a ostia poi insieme sono andati a capocotta insieme anche ad altre persone lì hanno fatto uno di questi festini hanno fatto uso di sostanze vilma si è sentita male e svenuta e tutti hanno pensato che fosse morta a questo punto entra in scena un secondo uomo che nell'articolo è soprannominato mister y che insieme a mister x riveste alla veloce vilma dimenticandosi di metterle la gonna le scarpe le calze e regi calze e scaricando il corpo in riva al mare così che sembrasse una disgrazia vilma però secondo l'articolo non sarebbe morta ma solo svenuta e sarebbe così annegata lentamente lì dove è stata poi ritrovata quindi silvano muto lancia questa bomba incredibile accusando un po tutti accusando vilma di avere una doppia vita accusando le autorità di essere corrotte e infatti subito dopo il procuratore capo di roma lo denuncia per aver pubblicato notizie false e tendenziose tali da poter turbare l'ordine pubblico quell'articolo nacque come nascono tutti gli articoli di giornale le voci innanzitutto è la raccolta di voci che circolavano nell'ambiente politico giornalistico romano altre voci e altri elementi giornalistici vennero presi dalla vicenda in se stessa a quel punto muto però ritratta tutto anzi si rimangia tutto dichiara addirittura di essersi inventato tutto di sana pianta e di non sapere nulla della morte di vilma e di aver scritto quell'articolo solo per incrementare le vendite del suo giornale che erano un disastro ma anche questa cosa non convince da un giornalista che per di più è laureato in giurisprudenza non sembra un comportamento molto normale fatto sta che qualche mese dopo a dicembre viene emanato il decreto del presidente della repubblica 922 in merito alla concessione di amnistia e di indulto che prevede l'amnistia quindi l'annullamento del reato di diffamazione a mezzo della stampa ma solo per i reati commessi fino al 21 settembre del 53 peccato che il reato di silvano muto è stato commesso il 16 ottobre quindi per meno di un mese non rientra in questo decreto ed è costretto ad andare al processo il processo inizia il 28 gennaio del 54 e silvano muto cambia di nuovo idea da che aveva detto di essersi inventato tutto e di aver scritto quell'articolo solo per vendere di più adesso ritratta e dice che in realtà è tutto vero dice di non essersi inventato niente di aver fatto un'indagine e di aver detto il contrario solo perché spinto dal sostituto procuratore che lo aveva interrogato ad ottobre questo processo appassiona tutta l'italia la gente come vi ho detto prima è ossessionata da questa storia fuori dal palazzo di giustizia di piazza cavur ci sono ogni giorno migliaia di persone che stanno lì tutti accalcati perché vogliono assistere alle udienze pensate che addirittura hanno dovuto chiudere tre ponti sul tevere per la troppa folla che c'era nel corso del processo vengono sentiti due testimoni due donne che avrebbero contribuito alle informazioni che muto aveva scritto nel suo articolo la prima testimone è una donna di nome adriana concetta bisaccia che si era trasferita a roma da un piccolo paesino con il sogno di diventare un'attrice aveva conosciuto muto il 23 luglio del 53 e lui l'aveva praticamente adescata perché un suo informatore gli aveva detto che adriana era una persona informata sui fatti riguardo al caso montesi e lui stava già indagando bisogna sapere però che adriana è una ragazza molto fragile sappiamo che da piccola ha sofferto di manie di persecuzione e in generale pare sia una ragazza un po instabile e facilmente manipolabile a quanto pare questo a detta di adriana è proprio quello che silvano fa con lei la manipola mentendole e inducendola a parlargli di vilma montesi di come è morta adriana al processo racconta che muto ha esercitato su di lei una pressante e suggestionante insistenza dicendole che doveva dirgli a tutti i costi come erano avvenuti i fatti anche perché lui le diceva che se lei avesse parlato avrebbe salvato tante ragazze che potevano finire come vilma montesi quindi lei si sentiva questa responsabilità addosso addirittura adriana racconta che da un certo punto in poi muto cerca di convincerla di essere l'amante di piero piccioni e adriana racconta di essere andata talmente tanto in confusione da aver iniziato a confondere la finzione con la realtà tanto da non essere neanche più sicura di conoscerlo questo piero piccioni racconta infatti di aver fissato un appuntamento con lui alla rai per chiedergli per chiedere a lui direttamente se si conoscevano oppure no cioè questo per farvi capire quanto era fragile questa ragazza a questo appuntamento comunque piero piccioni le dice di non averla mai vista in vita sua quindi presumibilmente i due non si conoscevano ma muto non desiste adriana sempre al processo racconta che il giornalista aveva continuato a pressarla insistendo con le sue domande tanto che a volte adriana in preda alla confusione gli aveva dato ragione gli aveva dato delle informazioni su vilma montesi ma che erano frutto della sua fantasia fino a quando dopo la pubblicazione del famoso articolo bomba adriana addirittura aveva tentato di togliersi la vita quindi insomma adriana dice di non sapere nulla in realtà di non aver mai frequentato quegli ambienti di non aver mai partecipato a quei festini e di non sapere nulla di vilma montesi e appunto di aver dato falsa informazione al giornalista solo perché messa sotto quella grande pressione ma per questo motivo la ragazza viene arrestata il 17 giugno per falsa testimonianza lei dichiarerà di non aver mai dichiarato il falso davanti ai magistrati ma solo in privato quindi a muto a degli amici in giro ma durante le deposizioni e sotto giuramento dice di aver sempre detto il vero comunque andando avanti col processo a silvano muto la seconda testimone è un'altra donna di nome anna maria moneta caglio statemi dietro perché lo so che ci sono tantissimi nomi e tantissimi avvenimenti in questo in questo caso anna maria praticamente aveva letto l'articolo bomba di silvano muto e subito dopo lo aveva contattato dicendogli di essere sicura di conoscere molto bene quello che lui nell'articolo chiamava mister x e sapeva per certo che fosse coinvolto nella morte di vilma montesi anna maria è figlia di una famiglia estremamente ricca una famiglia in cui ci sono intellettuali nobili notai massoni i titolari della zecca di milano e niente meno che l'unico italiano ad aver mai vinto il premio nobel per la pace ad anna maria però la sua famiglia sta un po stretta lei si sente un po ribelle per così dire non vuole sistemarsi con un buon lavoro e un marito anche lei vuole diventare famosa vuole lavorare in tv vuole diventare un'attrice infatti pensate che quando si è trasferita a roma per questo motivo per fare l'attrice suo papà le ha dato tre lettere di raccomandazioni una da consegnare al ministro per le telecomunicazioni giuseppe spataro una da dare alla serenissima gran loggia di piazza del gesù a roma una loggia massonica perché suo papà era un massone e la terza per giulio andreotti niente meno quando con queste lettere si era recata dal primo destinatario il ministro giulio spataro è stato proprio nella sua segreteria personale che aveva incontrato un uomo un uomo di nome ugo montagna che secondo lei sarebbe il mister x dell'articolo si ho incontrato montagna il 22 di agosto del 1952 al viminale addirittura presso la segreteria personale del ministro bella gente si incontra al viminale ugo montagna è un personaggio a dir poco controverso su di lui infatti si dice che durante la liberazione fosse amico dei nazisti dei politici tedeschi e che fosse addirittura un agente sovvenzionato dall'ovra che sarebbe la polizia segreta dell'italia fascista oltre questo l'uomo gode di diverse amicizie politiche forti tra cui c'è anche piero piccioni eccolo che ritorna anna maria e ugo montagna comunque iniziano una relazione e tutto sembra andare a gonfie vele montagna ricopre di soldi e regali anna maria che si gode anche tutte quelle amicizie importanti del suo amante ma da un certo punto in poi anna maria inizia a nutrire dei dubbi sull'uomo e quando legge l'articolo bomba di muto lo contatta immediatamente per dirgli appunto che lei è certa che mister x sia ugo montagna perché aveva visto vilma montesi insieme a lui diverse volte e lei anna sapeva benissimo che ugo fosse coinvolto nel giro di stupefacenti e anche nei festini di capocotta ecco che anche questo nome ritorna aveva anche raccontato al giornalista che il 7 aprile del 53 quindi due giorni prima dalla scomparsa di vilma ugo così improvvisamente le aveva detto di doversene andare da roma doveva andarsene a milano per un po perché lui doveva andare alla tenuta di capocotta per una battuta di caccia con piero piccioni al che anna maria è un po confusa gli chiede scusa perché io dovrei cambiare città solo perché tu devi andare a caccia con il tuo amico ma ugo si era arrabbiato molto e aveva insistito e a questo punto anna maria racconta di aver iniziato ad avere paura di lui e quindi aveva obbedito dopo pochi giorni però aveva letto del corpo di vilma trovato a torva janica che è proprio lì molto vicino a capocotta e aveva subito pensato che in qualche modo ugo montagna e piccioni fossero coinvolti tant'è che una volta a roma era andata da montagna col giornale chiedendo gli spiegazioni e lui aveva iniziato a urlare dicendo che non c'entrava niente con quella storia e aveva aggiunto prima di mettere dentro me io ne faccio fuori venti qualsiasi cosa voglia dire quindi cosa sta dicendo anna maria che mister x sarebbe ugo montagna e che mister y sarebbe piero piccioni racconta poi che il 29 aprile lei e montagna erano a cena fuori quando lui aveva ricevuto una telefonata da piero piccioni al che montagna aveva detto ad anna maria che dovevano recarsi subito dal capo della polizia tommaso pavone che era una delle tante amicizie importanti di montagna perché stavano circolando troppe voci su piero piccioni che lo collegavano al caso di vilma montesi e quindi montagna doveva metterle subito a tacere anna maria racconta di essere andata insieme a lui dal capo della polizia lei ha aspettato in macchina e quando montagna è tornato le ha detto ok ora è tutto a posto lei però racconta di non essere stata d'accordo e di avergli detto che se piccioni aveva fatto qualcosa di brutto a quella ragazza doveva pagare non era giusto che lui lo tirasse fuori dai guai così a quel punto montagna si altera e le dice che forse è meglio che se ne vada definitivamente da roma perché a questo punto lei sa troppo le dice proprio tu sai troppo sempre secondo la testimonianza di anna maria anna maria racconta che di lì in avanti lei ha vissuto nella paura nella paura che montagna volesse farla fuori addirittura prima di uscire di casa a volte lasciava dei biglietti con scritto tipo ore 16 e 30 sto uscendo con ugo montagna se non torno vuol dire che mi è successo qualcosa e racconta che in un'occasione è convinta che lui abbia tentato di avvelenarla ma anche lei al processo non viene creduta perché dai suoi racconti sembrava più che fosse un amante gelosa del suo uomo montagna con cui comunque c'era un rapporto turbolento e che agisse per ripicca anche il fatto di aver detto di aver visto vilma montesi con montagna che tra l'altro vabbè lei l'aveva definita una dromedaria a vilma perché anna maria definiva in questo modo tutte le donne che si accompagnavano al suo uomo delle dromedarie ecco anche questa cosa che lei ha detto si scopre poi non essere vera quella che lei aveva descritto in compagnia di montagna non era vilma montesi ma un'altra donna di conseguenza anche lei viene querelata e accusata di calugne e falsa testimonianza a marzo del 54 il processo a silvano muto viene improvvisamente annullato per far spazio ad una nuova istruttoria un'istruttoria formale sulla morte di vilma montesi affidata al giudice raffaele sepe vengono svolte quindi nuove indagini e si parte proprio dalla questione degli orari che come vi dicevo non combaciano se vilma è uscita di casa alle 17 10 17 un quarto non poteva trovarsi sul treno alle 17 30 infatti quando questi testimoni vengono risentiti quindi la signora passarella quella del treno la giornalaia la bambinaia tutte ritrattano un po la loro versione non sono più sicure dei loro ricordi forse dicono di essersi fatte prendere dalla foga del momento e pensavano di aver visto vilma ma forse non era lei il corpo di vilma viene riesumato e rianalizzato e si cambia idea persino sulla sabbia ritrovata nei polmoni che viene rianalizzata e vi ricordate che gli esperti sostenevano si trattasse della sabbia di ostia ebbene stavolta viene fuori che si trattava invece della sabbia di torvaianica riconoscibile per la quantità di ferro nei granelli era più ferrosa in più il fatto che i polmoni contenessero molta sabbia ma non molta acqua indica che vilma non sia morta annegata in mare ma proprio lì sul bagnasciuga con il viso nella sabbia come l'avevano trovata e infine fanno una scoperta molto interessante scoprono da questa nuova autopsia che vilma montesi soffriva di ipoplasia del sistema cardiocircolatorio ovvero aveva una orta di una misura inferiore al normale e il suo cuore era più piccolo di quello che avrebbe dovuto essere considerando la sua conformità fisica questo avrebbe effettivamente potuto causare un malore in vilma ma rimaneva un punto interrogativo ovvero come ci è arrivata a torvaianica da ostia doveva per forza essere con qualcuno lì qualcuno che quando lei ha avuto il malore si è spaventato e l'ha abbandonata a seguito di questa istruttoria avvengono due nuovi colpi di scena incredibili il primo è che il capo della polizia tommaso pavone che vi ho accennato prima perché amico di montagna si dimette improvvisamente e il secondo colpo di scena è che nel settembre 1954 piero piccioni viene arrestato per l'omicidio di vilma montesi e solo il giorno dopo si costituisce anche il suo amico ugo montagna ed è proprio a questo punto che il padre di piero attilio piccioni si dimette a causa dello scandalo troppo grande intorno a suo figlio e la sua avvenente carriera politica termina per sempre questo nuovo processo fa ancora più scalpore dell'altro a questo punto si parla proprio di affare montesi e tutti cercano in qualche modo di strumentalizzare la cosa a proprio piacimento soprattutto la politica approfittando anche dell'ossessione che la gente aveva nei confronti del caso dovete anche pensare che in questo periodo storico l'opinione pubblica le persone non sapevano nulla di questi retroscena di queste situazioni un po ombrose che coinvolgevano i potenti di questi festini a base di trasgressioni affari illeciti per la gente questo è stato uno squarcio in quella dolce vita a cui si stavano abituando e volevano sapere volevano saperne sempre di più questo processo sarà lunghissimo durerà ben tre anni e per forza di cose devo riassumervelo il più possibile di base sia piccioni sia montagna si dicono innocenti e giurano di non aver mai visto vilma montesi in vita loro addirittura piccioni ha un alibi in quel periodo si trovava a capri con la fidanzata che era una famosissima attrice di nome alida valli che testimonia anche in suo favore piccioni sostiene di essersi ammalato a capri e di essere tornato a roma il 9 aprile il giorno della scomparsa di vilma e di essersi messo a letto e di essere anche stato visitato dal suo dottore infatti aveva delle ricette delle ricette mediche che provano la cosa perché appunto il suo dottore lo aveva visitato e aveva diagnosticato una brutta tonsillite queste tre ricette però si rivelano false il dottore però durante il processo dichiara di aver falsificato lui la data per conto suo senza neanche dirlo a piccioni cioè lui sostiene che sono davvero state fatte il 9 aprile queste ricette ma aveva corretto la data successivamente di sua volontà e in buona fede sottolinea cioè lo fa passare un po come un suo errore la verità però è che non ci sono prove concrete che colleghino vilma montesi a piccioni o a montagna da questa nuova indagine viene fuori solamente che la maggior parte delle testimonianze che vedevano la donna invischiata in questi ambienti fossero praticamente tutte false cioè il caso aveva fatto impazzire la gente così tanto che davvero c'era gente che per avere i suoi 15 minuti di fama si inventava di aver visto vilma montesi con quell'uomo di averla vista in quel posto addirittura un suo vecchio compagno di scuola rilascia un'intervista dicendo di aver avuto dei rapporti intimi con vilma per poi rimangiarsi tutto e dire che lo aveva fatto solo per i soldi perché tutte queste interviste venivano pagate pare che molti giornalisti del tempo andassero in giro col libretto degli assegni in tasca cercando persone disposte a raccontare qualche dettaglio scabroso su vilma montesi quindi insomma non deve sorprenderci se questo caso è così tanto incasinato e non mi sorprenderebbe neanche se davvero il coinvolgimento di piero piccioni alla fine fosse stato veramente un mero tentativo da parte di un altro partito politico di affossare suo padre dato che l'italia era appunto in campagna elettorale e dato che poi effettivamente attilio piccioni si è dimesso a seguito di questa storia comunque morale del processo ugo montagna e piero piccioni vengono assolti c'è un altro sospettato però di cui non vi ho ancora parlato ovvero lo zio di vilma giuseppe montesi sarebbe il fratello di rodolfo un uomo 31enne che secondo la famiglia conduce una vita un po troppo sbarellata per i loro gusti è fidanzato ma pare gli piacciono lo stesso un po troppo le donne addirittura la mamma di vilma maria decide di allontanarlo dalla famiglia perché secondo lei non è un buon esempio per le sue figlie quindi giuseppe e la famiglia di vilma non si parlano più e lui infatti dice di aver visto vilma sia no tre volte nella sua vita eppure ci sono degli elementi che farebbero sospettare di lui per esempio pare che giuseppe dalla scomparsa di vilma abbia iniziato a comportarsi in modo molto strano pare che parlando con alcuni giornalisti abbia chiesto in modo insistente se alla fine il caso di vilma sarebbe stato messo a tacere dalla stampa oppure no e quando i giornalisti gli avevano risposto che no cioè secondo loro le autorità avrebbero continuata ad indagare lui si era mostrato molto turbato e preoccupato in generale giuseppe sembra ossessionato dal caso in modo che viene definito morboso ma l'elemento forse più strano di tutti è uno i colleghi di giuseppe raccontano che l'uomo riceveva ed effettuava costantemente telefonate di dubbio gusto a lavoro lui lavorava in una copisteria raccontano che giuseppe chiedeva spesso dei permessi a lavoro per recarsi ad ostia per incontrare delle donne tra cui una di nome vilma in una circostanza aveva anche raccontato ai colleghi di avere dei rapporti con una ragazza in quel periodo una ragazza che avrebbe dovuto sposarsi con un altro ma che non voleva e a cui lui quasi come per sfregio aveva addirittura comprato l'abito da sposa per questo altro matrimonio e infatti c'è chi dice che l'abito da sposa di vilma quello con cui poi l'avevano sepolta lo avesse comprato proprio lo zio giuseppe anche se lui ovviamente ha negato in un'altra circostanza sempre giuseppe sempre a lavoro parlando con i colleghi aveva detto di non avere nulla contro l'incesto e che uno zio avrebbe potuto avere rapporti con la nipote se ne valeva la pena che signore e infine il 9 aprile il giorno della scomparsa pare che giuseppe abbia ricevuto una di queste telefonate e che sia letteralmente volato via dall'ufficio senza neanche chiedere il permesso il giorno dopo si era recato a lavoro per spiegare di aver avuto un contrattempo e poi da lì non si è più presentato a lavoro per ben 20 giorni giuseppe in seguito confesserà che cosa era andato a fare quel 9 aprile racconta ovviamente di non avere nulla a che fare con la morte della nipote dice però di avere un segreto lui era fidanzato come vi ho detto con una donna di nome mariella che purtroppo da qualche tempo si era ammalata di cancro e per questo lui si era avvicinato alla sorella di mariella rossana in principio i due si erano avvicinati per star vicini a mariella ma poi giuseppe aveva iniziato a tradire mariella con sua sorella da cui addirittura aveva avuto un figlio ecco quindi quel 9 aprile quando è corso via dall'ufficio dice di essere andato a incontrare lei la sua amante e non l'aveva detto prima perché non voleva che si sapesse questa cosa però viene smentita da una donna di nome fulvia piastra un'amica molto stretta di rossana l'amante di giuseppe che giura e sper giura che il 9 aprile rossana era con lei l'aveva accompagnata alla stazione termini e aveva anche dei tagliandi delle ferrovie dello stato che lo dimostravano quindi secondo lei giuseppe aveva mentito la magistratura indaga su di lui fa partire una lunga inchiesta su di lui e sulla famiglia montesi che la stampa ironicamente chiama operazione zio giuseppe ma alla fine di queste indagini non viene fuori nulla nulla di concreto e quindi questa pista viene abbandonata sono passati più di 70 anni dalla morte di vilma montesi e non si è mai venuto a capo di cosa le sia veramente successo conduceva davvero una doppia vita fatta di festini droghe uomini potenti oppure ha davvero semplicemente avuto un malore causato da quell'ipoplasia che non sapeva neanche di avere era davvero in compagnia di quello zio un po controverso che magari vedendola star male non potendosi permettere di essere scoperto l'ha abbandonata sul bagnasciuga oppure come si è detto dall'inizio la ragazza era semplicemente da sola quando si è sentita male quando tutto questo è successo purtroppo probabilmente non lo sapremo mai queste amici sono tutte le informazioni che ho sul caso di oggi fatemi sapere se lo conoscevate già io penso che i più giovani probabilmente non lo conoscevano comunque scrivetemelo nei commenti detto ciò io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao